Lo staff medico del Napoli ne è rimasto impressionante per la sua stanza fisica e la capacità atletica. Bruno Uvini, difensore brasiliano classe 91, è il nuovo acquisto del direttore sportivo Riccardo Bigon. Un difensore di cui si parla un gran bene tra gli esperti di calcio internazionale e che in un primo momento sembrava di essere girato a qualche formazione minore del nostro campionato come il Siena. E invece, causa, rischio o squalifica per Cannavale Grava e considerate le doti del giocatore, potrebbe restare agli ordini di Mazzarri almeno fino a gennaio. Passaporto comunitario, campione mondiale under 20 con la sua nazionale, Uvini arriva dal San Paolo. E non sarà l'ultimo acquisto del calcio mercato azzurro il difensore, visto che sembra quasi fatto ormai per l'arrivo del terzino destro del Genoa, Gian Domenico Mesto, una vecchia conoscenza di Mazzarri ai tempi della regina. L'ideale per il ruolo di vice maggio. Grazie a tutti.